Vi avevo anticipato da un po' che avrei fatto il video dove avrei detto quali sono i miei mazzi preferiti e li avrei messi in correlazione con i miei mazzi più utilizzati. Alla fine ci siamo arrivati, è passato un po' di tempo da quando l'ho annunciato, come al solito, ma l'importante è che alla fine, con calma, ci si arrivi. Che dite? Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo, in base al tempo di utilizzo temporale, vabbè vi spiegherò subito cosa intendo, quali sono i 7 deck che ho utilizzato di più nella mia carriera da giocatore di Yu-Gi-Oh! Ovviamente inteso come deck vero e proprio, non come mistone, starter deck, structure deck, ok, però mistone starter deck con abbandono non lo andrò a considerare ovviamente perché se no vincerebbe con 4 anni di utilizzo, tipo una roba del genere, quindi che dire, sigla! Allora, che cosa ho considerato per stirare questo video? Ogni mazzo che ho utilizzato l'ho utilizzato per un determinato periodo di tempo, però io non posso considerare da quanto tempo ho il mazzo, perché ovviamente diversi mazzi ce li ho, ma non è che li utilizzo tutti costantemente. Ovviamente ci sono periodi nei quali utilizzo un mazzo costantemente, ci sono periodi nei quali utilizzo un altro mazzo costantemente, ci sono periodi nei quali non utilizzo mazzi perché non gioco, perché impegni e cose varie. Quindi ho pensato bene di prendere i tempi, gli architemporali massivi dove utilizzavo un determinato mazzo e di spostarlo su questa classifica per appunto stilare questa classifica di 7 mazzi. Quindi cosa vuol dire? Per esempio, prendiamo un mazzo che nemmeno Eldritch lo utilizzo da ottobre a gennaio, va bene, poi smetto di giocarlo, lo utilizzo di nuovo da luglio ad aprile dell'anno dopo, va bene, quindi Eldritch dura quel tipo di mensilità. Per esempio, ottobre-gennaio, va bene, poi non lo utilizzo più, più luglio-aprile successivo, quell'altro arco di tempo metto insieme ed ecco che è uscito il tempo, la mensilità di utilizzo di quel mazzo. Sono andato un po' a memoria, c'è da dire perché ovviamente non posso tenere traccia effettivamente di quello che ho fatto nella mia storia, nella mia carriera giocata di Yu-Gi-Oh! Però diciamo che in basso alla mia memoria e anche grazie al canale e alle deck profile che ho pubblicato sul canale, perché mi sono, diciamo, guidato con quelle, è stato bene o male, relativamente semplice, stabilire questa classifica. Quindi cominciamo! E al settimo posto troviamo Flow Wanderies. Allora, Flow Wanderies, ragazzi, è l'ingresso più recente nella mia cerchia di mazzi, mettiamola così. Lo sto utilizzando all'incirca da marzo e comunque al momento non ho ancora smesso di utilizzare questo mazzo. Ovviamente nell'ultimo mese, quindi nel mese di aprile, ho fatto un torneo nel mese di aprile, quindi non posso considerare aprile. Però diciamo che in linea di massima tra fine febbraio, marzo e la prima metà di aprile, insomma, quei giorni di aprile che sono riuscito a giocare effettivamente, perché maggio non ho giocato una partita fino ad ora in un torneo, aprile avrò giocato due torne in croce, quindi possiamo considerare all'incirca due mesi di utilizzo per quanto riguarda Flanderies. Perché metà febbraio l'ho utilizzato, una metà tra virgolette di aprile all'incirca, vabbè, comunque non sto giocando altro, quindi diciamo che è tra virgolette periodo di attività di Flanderies. Bene o male ci siamo, quindi all'incirca due mesi al momento l'ho utilizzato. Non ci sono mazzi che ho utilizzato di più di Flanderies, sopra i due mesi, niente praticamente, di utilizzo compulsivo costante. Sesto posto per Invo Dolmatica. Allora, qui ho scritto che l'ho utilizzato per tre mesi, per quel motivo? Perché Invo Dolmatica io l'ho montato appena presi i Megateen. Mi sono arrivati i Megateen, mi è arrivato il case più l'altro mezzo case che ho avuto per la sponsorizzazione di Magic Corner, quindi da Magic Corner mi sono arrivato questo case e mezzo più il case del team, e da lì sono riuscito a montare una basetta Invo Dolmatica che poi ho completato e sono riuscito a giocare. Ci ho fatto anche una top, lo sapete, e comunque l'ho giocato per abbastanza tempo. Diciamo che in circa i Megateen sono usciti per ottobre 2021 e io ho continuato ad utilizzare Invo Dolmatica per ottobre, novembre, dicembre, sicuro, e quasi tutto gennaio. Quindi indicativamente tre mesi puliti ce li ho fatti, ci ho fatto anche qualche partita per due settimane post-banlist, poi piano piano ho venduto sempre roba, diciamo che dopo post-banlist, tipo una settimana post-banlist, avevo già venduto D.P.E. e poi il resto del mazzo, però Shadow mi è ancora rimasto. Vabbè, in ogni caso comunque l'ho utilizzato effettivamente di più di Flanderys, è uno dei mazzi più recenti che ho avuto, che però al momento non possiedo più, quindi non potrà fare i numeri più alti e quindi niente, Invo Dolmatica si ferma qui. Quinto posto per Luna Light. Luna Light l'ho utilizzato per tutto sommato, in maniera costante, soltanto il periodo post-ban di Engage. Quindi febbraio, marzo, aprile e leggerissimamente maggio mi pare perché io per i primi periodi di maggio non avevo effettivamente nessun mazzo montato, non ne avevo ancora montato ad Amantia. Quindi sì, diciamo che all'incirca siamo sui tre mesi e mezzo barra quattro, diciamo più quattro perché ho rubato un po' di giornate a gennaio, dal momento che Sky Striker per tipo metà gennaio io già ero con Engage a zero e quindi Luna Light si è ritrovato giocato in questo periodo. Poi un altro periodo nel quale lo giocai abbastanza per tipo due o tre settimane fu in meta Luna Light Orkust dove io giocavo Luna Light OTK soltanto in quel periodo, parliamo di due o tre settimane, poca roba, però che porta il tutto, il conteggio, è al valore di quattro mesi, quindi alla fine ho giocato Luna Light per effettivamente quattro mesi, quindi ci sta. Quarto posto Dino, io qui ho scritto cinque mesi per Dino, per quale motivazione? Perché io Dino ho cominciato a giocarlo ad agosto 2020, mi pare sia o agosto o settembre, quindi consideriamo come buono settembre, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. A febbraio è uscita Prosperity, come sapete io ho venduto Dino per shoppare altre per di Prosperity e quindi cinque mesi è aggiudicato. Comunque ci ho fatto un autopotto, l'ho utilizzato abbastanza, è un mazzo che comunque non era previsto che utilizzassi così tanto perché me lo sono buildato, sì, ma da una scommessa persa, quindi alla fine diciamo che non ho mai amato Dino prima di effettivamente perdere quella scommessa, quindi è importante anche come cosa il fatto che io abbia giocato Dino per così tanto tempo. Vabbè, io nel caso comunque Dino l'ho giocato per indicativamente cinque mesi, quindi ci può stare posizione non meritata ma giusta perché effettivamente è quello il tempo. Quarto posto per Sky Striker. Allora, Sky Striker io lo sapete meglio di me, non lo utilizzo da gennaio 2020 in maniera costante, mettiamola così. Sky Striker ho smesso praticamente di utilizzarlo a gennaio 2020 una volta che hanno segato Engage perché poi le versioni che sono venute dopo diciamo che non mi hanno fatto troppo impazzire. Allora, mi sono finito di costruire il mazzo con Battles of Legend Hero Revenge e da quel momento io ho giocato soltanto a Sky Striker fino al band di Engage a gennaio 2020. Quindi, parliamo di un mazzo che ho utilizzato per, dal momento che è Battles of Legend, se non sbaglio, è uscita a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Indicativamente, mettiamo, non saranno sette, ok, sono sei mesi, quindi per mezzo anno ho effettivamente giocato praticamente soltanto a Sky Striker. Come sapete l'ho portato a tantissimi regionali, l'ho portato al YCS di Milano e poi ci ho pianto lacrime a mare una volta che Engage è andata a zero. Quindi, niente, ovviamente si sapeva questa posizione, ok, va bene, magari forse qualcuno di voi se l'aspettava un po' più in alto, Sky Striker, però effettivamente non è così tanto in alto che dovrebbe stare, ecco, mettiamola così, perché l'ho abbandonato abbastanza in fretta. A differenza del mazzo che gli sta sopra, perché sopra Sky Striker, per tanti di voi che magari non seguono il canale dall'inizio, dagli albori, questo canale è nato con un mazzo specifico, ovvero Trickstar. Trickstar è stato il mio primo mazzo competitivo, tra virgolette, quindi a tutti gli effetti è normale che abbia un utilizzo, una quantità di utilizzo abbastanza elevata, insomma, parliamo di un numero di mesi molto alto. Io ho cominciato a giocare per maggio 2018, diciamo, ho ripreso a giocare per maggio 2018, l'ho spiegato un po' di volte, però non è da maggio 2018 che ho Trickstar, per quel motivo, perché io non avevo un cazzo di soldi, e quindi aspettato, 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 finché Enrico non me l'ha regalato. Da quando Enrico mi ha regalato Trickstar, io effettivamente, che ho cominciato anche a fare i tornei al fallo unico, ho cominciato a giocare costantemente Trickstar, senza mai passare all'altro, a parte per una settimana che giocavo Chain Barn, o una settimana che giocavo... no, Gradatore e Best, ma non lo giocavo in quel periodo, perché ce l'avevo sempre nel raccoglitore, quindi giocavo praticamente sempre Trickstar. Quindi Trickstar possiamo prendere per buono il fatto che l'ho utilizzato da novembre 2018, ovvero il mese nel quale l'ho avuto. Mettiamo di più dicembre 2018, perché il concerto dell'Imaging Dragons è stato verso fine novembre, vabbè, non me lo ricordo. Vabbè, in ogni caso, comunque, sono di più di Sky Stryker. Quindi novembre 2018, va bene, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, e purtroppo si ferma qui, perché a luglio poi è arrivata la banlist che ha messo a uno light stage a luglio 2019, e da lì ho smesso di giocare Trickstar, perché sono passato, ho passato il testimone a Sky Stryker. Quindi, indicativamente, otto barra nove mesi, prendiamo più otto per non sbagliare ed essere sicuri. Non ho mai ripreso costantemente a giocare Trickstar, l'ho ripreso sì ogni tanto, assolutamente, però non ho mai ripreso costantemente a giocare Trickstar, anche perché al momento non mi sembra che sia un mazzo che possa reggere così tanto bene il meta. Quindi, per forza di cose, è stato superato. È stato superato, però, da un mazzo che, vabbè, immagino che vi aspettiate tutti in questa classifica. Fa parte di due parti di periodi, insomma. Per quale motivo? Perché l'ho giocato per un periodo, poi ho smesso perché c'era Dino in mezzo, poi l'ho ripreso a giocare, e poi ho smesso una volta che sono usciti i Megateen. Se non sbaglio, proprio con l'uscita dei Megateen ho smesso di giocare questo mazzo di nuovo costantemente. Parliamo di Adamantia, ovviamente. Adamantia io ho sempre detto, eh, ce l'ho dal day one. Non è vero, non sono riuscito a procurarmi tutte le carte al day one. Specialmente le Researcher ci ho messo un mesetto per recuperarle, quindi devo prendere per buono maggio 2020, per, diciamo, inizi giugno, però comunque maggio 2020, per aver incominciato a giocare Adamantia, insomma. Quindi maggio 2020 incomincio a giocare Adamantia, quindi maggio, giugno, luglio. Qui arriva la banlist, non tocca niente, perfetto. Agosto, settembre. Se non sbaglio la banlist, no, era l'11 settembre, sì. Banlist, quindi segato a blocco, a settembre. Cinque mesi indicativamente, va bene, ok. Incomincio a giocare Dino, quindi ottobre, novembre, dice, va bene, ok. Riprendo a giocare Adamantia costantemente, soltanto Adamantia praticamente, da marzo. Quindi marzo, aprile, maggio, giugno e, sì, possiamo dire anche luglio, agosto e un po' di settembre. Quindi, ragazzi, sono a tutti gli effetti 12 mesi che ho giocato Adamantia. Un anno di Summon Big Rock and Prey, sostanzialmente, che non giochino droplet perché sennò perdi. Vabbè, in ogni caso, comunque, Adamantia si conferma assolutamente il mio best deck. Per quale motivo? Perché l'ho giocato per più tempo di tutti. Al momento non lo sto giocando perché sto dando spazio a della roba che, ovviamente, mi sembra più competitiva. Però, diciamo che, nei formati nei quali non so bene che cosa giocare e non voglio spendere soldi per shoppare qualcosa di meta, gioco quello. Vado su quello, punto. Vado su Ada. E quindi niente. Boh! Chi se lo aspettava! Che sarebbe stato ad avanti al mazzo più giocato. Nessuno, eh. Vero. Vabbè, detto questo, comunque, ragazzi, scrivetemi qua sotto quali sono i mazzi che, facendo un paio di calcoli nella vostra vita, nella vostra carriera del giocatore di Yu-Gi-Oh! avete giocato di più. In correlazione a quali sono i vostri preferiti. Infatti, ragazzi, vi riporto ad una seconda parte di questa classifica che uscirà nei prossimi giorni, o non so quando, insomma. Però dovrebbe uscire nei prossimi giorni dei mazzi miei preferiti, i miei sette mazzi preferiti. Così vediamo, effettivamente, quali ho usato di più, però in correlazione a quali vi piace di più effettivamente giocare. Ci saranno forse un po' di differenze, forse poche, non lo so. Anzi, lo so, ma voi non dovete saperlo. Provate a scommettere qua sotto nei commenti qual sarà la mia top 3. Detto questo, signori, noi ci vediamo, come al solito, domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi!